Stiamo realizzando il più straordinario ponte che esiste in Italia, lo scrive entusiasta il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Ormai i lavori sono in una fase avanzata. Qualche giorno fa erano arrivati i primi pezzi della grandiosa antenna che caratterizzerà l'opera. Di questo ponte, lo ricordiamo, si iniziò a parlare più di 15 anni fa, ma il progetto non era stato finanziato e la zona in cui doveva sorgere non era mai stata bonificata. È stato il sindaco Chiuto ad avviare i lavori e sarà la prima grande opera a sorgere in una periferia della città di Cosenza, nel quartiere di Gergeri. Il ponte sarà lungo 140 metri con un pennone alto più di 90 metri. Avrà quattro corsie, di cui una esclusivamente pedonale, e consentirà un veloce collegamento tra il centro e questa zona in espansione della città Abruzia. Avrà un grande valore simbolico, ma servirà soprattutto alla rinascita vera, architettonica e sociale, di un'ampia area di Cosenza. Questo ponte sarà uno straordinario esempio di moderna infrastruttura e attirerà turisti e visitatori da tutto il mondo.